Portare all'attenzione del Comitato delle Regioni l'esperienza marchigiana in materia di sostenibilità ambientale. È l'obiettivo della missione promossa dalla Regione, da Anci Marche e Svim, in programma a Bruxelles il 6 e il 7 febbraio prossimi, presentata oggi alla stampa. Questa missione è stata voluta fortemente da Regione Marche in qualità di ambasciatrice del patto di sindaci e quindi abbiamo ritenuto importante e utile per la nostra realtà portare a conoscenza del Comitato Europeo delle Regioni questa che è un'esperienza davvero molto qualificata della Regione Marche e poi anche di facilitare un po' il confronto istituzionale per arrivare sempre più in fretta a quella che è la transizione energetica una missione ambiziosa che prevederà anche un workshop formativo dove anticiperemo ai 32 sindaci presenti quelli che saranno le novità della prossima programmazione. Il ruolo di Regione Marche è il ruolo di regia per monitorare le attività svolte ma soprattutto per intercettare i fabbisogni e quindi cercare di orientare al meglio le risorse pubbliche. Ambasciatrice del patto dei sindaci per il clima e l'energia, Bora ha promosso questo appuntamento che vedrà la partecipazione dei presidenti del Comitato, Karl Heinz Lambert, e del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Una bella esperienza che come Marche abbiamo messo in campo grazie all'azione della Regione, dell'assessore Bora e dello Svim che ci ha messo nelle condizioni di assumere delle buone pratiche e le raccontiamo in Europa attraverso anche la possibilità di allargarla a tutti i comuni marchigiani. Le Marche sono protagoniste in Europa grazie alla Regione Marche, grazie alla Svim che è il soggetto attuatore del patto dei sindaci che vede coinvolti direttamente sindaci marchigiani, una delegazione con più di 40 sindaci che andrà a Bruxelles prima per degli incontri diplomatici e di politica internazionale, incontri rattagliani e faremo un po' il punto sul lavoro che stiamo facendo e poi in una grande conferenza al Comitato delle Regioni per promuovere l'attuazione del patto dei sindaci quindi sempre di più i piani di azione locale per quanto concerne l'efficienza energetica, il risparmio energetico, la produzione di energie rinnovabili ma anche dei piani per l'adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici. Questi sono temi cardini delle nostre azioni che porteranno molto presto tante risorse nelle Marche e tante risorse per i comuni marchigiani da poter spendere su tematiche della sostenibilità. La Due Giorni Europea vivrà attorno a tre momenti in programma. L'incontro al Comitato delle Regioni, un workshop informativo e formativo presso la sede della Regione a Bruxelles che coinvolgerà circa 35 sindaci marchigiani e la sottoscrizione da parte dei primi cittadini dell'Alleanza per la politica di coesione, già siglata dal Presidente Luca Ceriscioli.